Ciao a tutti e bentrovati! Oggi ho deciso di parlarvi dello scoperto e della franchigia, che sono elementi da tenere sempre in considerazione prima della sottoscrizione di un contratto assicurativo. La franchigia e lo scoperto di una polizza determinano, in caso di sinistro, la parte di danno o spese che rimangono a carico del cliente assicurato. Prendiamo in esame la polizza che è più richiesta in questo momento, ossia la sanitaria, che prevede una serie di rimborsi spese sostenute, tra cui visite mediche specialistiche, il parto, gli interventi chirurgici ed un'ampia gamma di assistenze, più o meno sostanziose in base alle compagnie. Ad esempio, per quanto riguarda gli interventi chirurgici, alcune compagnie potrebbero avere delle esclusioni o limitazioni, come ad esempio per i costi dell'equipe mediche non convenzionate. In questo caso, quelle compagnie applicheranno una franchigia ed uno scoperto sull'importo dovuto, quindi copriranno tutte le spese sostenute per il ricovero nella struttura selezionata, mentre rimborseranno solo parzialmente quelle sostenute per l'equipe medica non convenzionata. In alcuni prodotti assicurative di compagnie primarie, come la mia, sarà possibile modificare le franchigie, logicamente con un aumento o la diminuzione del costo della polizza, per una soluzione però su misura per il cliente. Spero di avervi fornito elementi utili per una corretta valutazione del rapporto qualità-prezzo di un prodotto assicurativo e un altro. E se avete domande potete comunque farmene in direct. Ciao e alla prossima!